Comunque amici ascoltatori, a proposito di gente veramente bellissima, oggi ritorna il mitico, il supremo Just in Tempo, signori, perché oggi Just in Tempo vuole fare un tutorial. E questo tutorial è molto interessante, io non te l'ho scritto perché te lo devi... Sì, porta la tuta. Eh, esatto, ma lui è sempre vestito con la stessa tuta, non so se te ne sei mai accorto. E' sempre vestito con la stessa tuta, è una roba bestiale, ma oggi fa un tutorial molto particolare. Non ti dico che cos'è, lo devi scoprire tu, tu lo devi scoprire, da solo, con i tuoi occhi, vai! Buongiorno ragazzi, benvenuti nel mio canale. Questo è un tutorial come si lavano le mani. Come si lavano le mani? C'è bisogno di aprire l'acqua. No! Così. Ma va? Poi mettere le mani così. Cazzo è proprio geniale! Ahaha! È proprio geniale! E sciaccarle bene 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 così. Ma perché? Ma perché? Dai! Se avete aperto troppo l'acqua, la chiudete un'interno. Ma perché? Non fa perché? Perché senso ha? Ahaha! Un saluto al Marco Dovando, che mi ha scoperto questo. Marco Dovando? Che è Marco Dovando, scusate? Si strofina bene bene così. Eh beh, sembra che lo sta masturbando. Esatto. Poi, si lavano bene bene sopra, sotto. Ci voleva un tutorial per sapere come si lavano le mani. Eh, ci voleva. Ci voleva, sì, sì. Ah! Già sì. Una volta fatta si chiudono... Cos'è il gesto della scimmia? Cos'è questa roba cosa? Diciamo la verità, a differenza di altri coglioni, lui l'acqua comunque la tiene in modalità moderata, non neanche lo tiene al massimo. Ah, vero, quello sì. Quindi possiamo dire che... Sprega... Pochissimo. Sprega pochissimo. Però sprega... Diciamo che sprega tempo su YouTube. Esatto, sprega tempo su YouTube. E lascia il video così, con questa cosa. Aspetta, un ringraziamento a... A chi? A cosa? Per l'idea di Marco Davanzo, per i commenti soliti di OriginalComic e CrazyRodio81, TomX73, Serafino Massoni. Chi cazzo è? Serafino Massoni! Sì! Uno a YouTube! E' un ringraziamento speciale a YouTube... A YouTube. Va bene. Perché non ha ringraziato l'Universa Show? Sì, appunto. Se è una promozione, comunque, sempre continuativa, ecco. Esatto. Perché visto che noi stiamo cagando quasi tutti i video di Just In Tempo, ecco, ringraziamolo il mitico Just In Tempo. Lorenzo Valitutto si chiama, l'ho trovato anche... Simone, vado in bagno. Va bene. Cago in tempo. Ma come caghi in tempo? Ma perché? Ma perché? Dai.